Ad essere di parere contrario però per l'abbattimento degli alberi in favore del rifacimento dei marciapiedi sono diversi residenti di Viaggiotto, in particolare una cittadina che risiede proprio su quella strada che nella giornata di ieri è scesa in strada cercando di fermare il taglio delle piante. Antonietta ha contattato la nostra redazione per spiegare come sono andate le cose. Siamo con Antonietta, una cittadina di Agropoli, residente in Viaggiotto dove in questi giorni si stanno svolgendo lavori di riqualificazione per quanto riguarda i marciapiedi. Ovviamente ci sono state anche delle polemiche negli ultimi giorni per il taglio degli alberi che è avvenuto per far sì che si potessero portare avanti questi lavori. Antonietta tu sei qui da noi perché hai chiesto di chiarire un attimino la tua posizione perché su alcuni organi di stampa sembra che abbiano confuso il ruolo della tua persona. Puoi spiegarci come è andata? Sì certo. Allora io sono qui adesso proprio perché voglio fare chiarezza su questa cosa e soprattutto perché mi piace diffondere delle notizie diciamo vere. In realtà è stata messa una notizia che credo sia importante, cioè che non è da sottovalutare. il fatto che io sono una cittadina di Agropoli ma sono una residente di Viaggiotto e non sono assolutamente un attivista. Il mio lavoro è tutt'altro, non sono un attivista e semplicemente io ho percepito, vivendoci perché io vivo lì, ho percepito come un atto di violenza quello che è stato fatto perché non siamo stati messi al corrente di quello che doveva essere fatto e quando l'abbiamo saputo purtroppo era troppo tardi e quindi io sono dovuta scendere così all'improvviso per fermare i lavori e mi è stato detto di essere violenta quando in realtà la violenza era dall'altra parte. Infatti io sono una persona molto pacifica. Il punto è che quello che mi ha mosso a fare questa azione è il fatto che io voglio andare verso la bellezza e soprattutto è il principio a monte che è sbagliato. Io non sono contro nessuna amministrazione e anzi non mi interesso di politica, la politica non è proprio il mio campo assolutamente e non sono qui per screditare un sindaco, un altro oppure non è questo il mio intento. Il mio intento è un altro. Vorrei spronare proprio le persone ad andare verso la bellezza e soprattutto verso la cura, soprattutto in questo momento storico io la trovo una cosa veramente gravissima anche perché ai nostri figli viene insegnato a distinguere gli esseri viventi dai non viventi e tutto questo che senso ha? Se noi consideriamo un albero come lo consideriamo? Bisogna considerarlo come un essere vivente, credo, non sono io a dirlo. E' proprio la facilità con cui si abbatte l'albero per fare il marciapiede, poi in un posto dove sembra che ci sia tutta questa attenzione nei confronti dei disabili, nei confronti del sociale, nei confronti dei bambini. Io sono una madre, ho un bambino di sei anni e so perfettamente che cosa significa passeggiare con il carrozzino e a me non ha disturbato assolutamente questa cosa. Anzi, gli alberi erano fondamentali per mio figlio e credo che lo siano per tutti i bambini. E poi soprattutto voglio dire un'altra cosa perché si può camminare anche tenendo i bambini in braccio all'interno di un marsupio ed evitare che respirino lo smog delle auto così riusciremo a proteggerli anche molto meglio. Il punto è che se tagliate pure gli alberi che cosa devono respirare? Le macchine che circolano e questo è quello che lasceremo ai nostri figli. Io non sono d'accordo e ci tengo ad andare verso la bellezza e verso la cura dei posti perché si poteva benissimo intervenire e rifare il marciapiede si poteva fare anche dall'altro lato della strada e io abito proprio lì e sarei stata a favore di questo e ci sono tantissimi residenti nella zona di Viaggiotto che sono d'accordo con me mentre dalle notizie che si leggono traspare quasi il contrario e io la trovo una cosa un'ennesima violenza nei confronti invece di una cosa che è palesemente ingiusta perché innanzitutto i cittadini devono essere messi al corrente tra l'altro io ci vivo io non sono un attivista non sono un attivista che arriva lì anzi ho trovato poi anche dei vigili molto disponibili molto disponibili e io mi voglio scusare con loro perché ho bloccato diciamo loro stavano lì a fare il loro lavoro il mio intento non era quello di dare fastidio di bloccare i lavori era semplicemente quello di sensibilizzare e di far capire che bisogna andare verso un'altra direzione che bisogna intervenire proprio alla radice del problema la radice del problema è che non c'è cura non c'è la cura e non c'è il rispetto e se poi noi dobbiamo considerare l'albero come una cosa che può essere tagliata a piacimento è deturpata in quel modo io lo trovo un atto gravissimo soprattutto nel periodo nel momento storico che stiamo vivendo e soprattutto voglio insegnare ai nostri figli invece ad andare verso la bellezza ad andare verso la cura perché lì si poteva creare un posto bellissimo mantenendo gli alberi creando degli aluole il fatto che si taglino gli alberi e poi si piantino da un'altra parte non giustifica l'azione che è di una violenza inaudita e senza rispetto e poi io non voglio fare del male a nessuno e non voglio assolutamente non sono proprio io a dover fare del male perché queste persone sono già molto 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 impegnate a farsi del male da sole e in realtà io volevo aiutarle volevo aiutarle a capire e a non restare sempre solo sull'interesse economico o sulla soluzione più facile perché la soluzione poteva esserci si poteva andare verso la bellezza e quindi scegliere la strada della bellezza e quindi l'interesse è è l'interesse Grazie.